Una vittoria importante per un comune della Romagna che vede questa realtà sportiva emergente? Sì, una bella vittoria che sono stato presente sugli spalti, è stato per San Giovanni un orgoglio immenso, ma è stata la vittoria di una intera comunità che è riuscita a vincere un trofeo che a San Giovanni nessuno si aspettava. Un sogno che si è realizzato, una squadra importante, una squadra molto conosciuta e riconosciuta a livello locale che sta prendendo dei grandi spazi a livello nazionale. Da parte dell'amministrazione comunale c'è una grande collaborazione, c'è una gran voglia di emergere e secondo me abbiamo tutte le possibilità per fare il salto di qualità, ma un merito va sicuramente agli sponsor, alla società, ai dirigenti e tutta la comunità che quotidianamente, ma specialmente le domeniche in casa, e i nostri tifosi la seguono e la seguiranno anche in futuro. Quindi sono molto contento e molto orgoglioso di questa vittoria e di questa squadra. Vincere la Coppa è stata un'emozione grandissima anche perché non ce l'aspettavamo, quindi abbiamo giocato il tutto per tutto in quella partita e siamo molto contenti di ricevere questi premi perché per la nostra società e per il nostro paese è una bellissima soddisfazione. Adesso l'obiettivo sono i play-off e speriamo anche lì di poter coronare il nostro sogno.